buongiorno le rimetto qua allora siamo a lunedì un'altra giornata iniziata e diciamo che ci abbiamo avuto un fine settimana all'insegna della sfiga perché mio marito ha perso il cellulare in campagna mentre cercava i funghi non l'abbiamo più ritrovato quindi è un macello perché praticamente abbiamo dovuto bloccare la sim domani visto che dobbiamo andare a viterbo andremo a comprare sta sim vabbè lasciamo perdere tutta una cosa complicata per il semplice fatto che è tutto a nome mio quindi mi devo muovere io stamattina sono andata a fare le analisi di routine che faccio di solito una volta al mese e c'era una massa di gente ma proprio tanta per fortuna che non hanno fatto grandi storie perché avevo la precedenza c'era anche un'altra ragazza quindi fortunatamente non ci hanno fatto storie però è successo sono stata stata anche parecchie volte mi è capitato che facessero storie perché non volevano farmi passare pur avendo la precedenza però vabbè questo so che non succede solamente qui da me succede un po dappertutto e va bene però di solito quando di solito quando gli addetti o comunque quelli dell'ospedale se ne accorgono che se incinta ti fanno passare loro lo dicono a voce alta e niente però quando non ci sono diventa un po un macello perché non tutti hanno la coscienza di capire il perché tu stai passando avanti comunque io alle 10 sto ancora fa colazione perché tra una cosa e un'altra poi abbiamo dovuto organizzare pure per domani per fare questi giri e quindi niente e stamattina poi devo anche pulire casa per terra perché sabato sera ci abbiamo avuto gli amici a cena e c'è stato un po un casino quindi bisogna per forza pulire chi chi c'ha i cani soprattutto appeso appeso chi c'ha i cani soprattutto a pelo lungo sa che vuol dire passa l'aspiravorbere sa che vuol dire puli casa perché ci vuole un po però ok va bene di fuori il tempo non è il massimo però ce lo facciamo andare bene è arrivato pure un po di fresco e per me è una manna dal cielo perché c'ho la pressione bassissima il problema è che non posso fare il cambio di stagione da sola perché c'ho tutto sopra l'armadio e devo tirarli giù quindi devo aspettare questo quest'altro prossimo fine settimana per farlo e quindi c'ho il singhiozzo quindi sto praticamente con le magliette a mezze maniche quelle un po più pesantine e con due felpe in croce due giacchetti in croce che c'ho nella parte bassa dell'armadio devo faccio cambio di stagione che poi cambio di stagione cioè a parte un paio di leggings e un paio di jeans di shane che ho preso nel reparto prima man non c'ho altro cioè c'ho i pantaloni della tuta ma non so neanche se ne danno fastidio cioè mi tocca metterli sotto sotto la mancia perché non posso metterli sopra quindi non è che c'ho tanta roba da far cambio cambio di stagione più che altro è più che altro è il coso come si dice più che altro ecco le magliette i maglioncini le felpe queste cose qua perché nella parte di sotto i jeans non li tiro manco giù cioè li lascio di sopra perché tanto non li metto da gennaio in poi forse li metterò se riesco a perdere subito velocemente la pancia se non metto le tute insomma non è che non è che mi metta a metter jeans che mi stringe e mi fa male mosca eh hai rotto e va vabbè finisco le faccolazione e poi mi metto a pulire con calma perché oggi oggi non c'ho proprio voglia veramente c'ho proprio voglia anche perché mi hanno distanguato alle analisi perché il braccio alla vena una volta trovata non pompava il sangue quindi siamo dovuti andare nell'altro braccio nel sinistro che invece si è trovata subito e ha pompato con tanto di bollicine quindi figuratevi però lo so perché cioè c'ho la pressione bassa io non capisco perché quando in tutte le gravidanze c'ho avuto tantissimo la pressione bassa che di solito invece io non ce l'ho mai bassa però ultimamente ce l'ho avuto troppo tantissimo bassa quindi boh che ve dico niente non so un medico quindi mi sarebbe piaciuto però fare medicina lo dicevo l'altro giorno a samuele mi sarebbe piaciuto fare medicina sì perché il mio sogno era diventare chirurgo plastico quindi però poi ho fatto altri studi più che altro dati per picrizia infatti a posteriori cioè mi piacerebbe ricominciare a studiare all'università medicina però mi rendo conto che a 36 quasi 37 anzi di anni diventa un po lungo un po una perdita dei soldi più che più che di tempo perché alla fine se uno si mette a studiare per conoscenza perché gli piace non fa mai male ecco approfondire la conoscenza leggere mettersi a studiare non fa mai male a nessuna età a mio parere però mi rendo conto che non è sarebbe una cosa più fatta per me per come dire per conoscenza mia ecco per un una curiosità mia e basta perché poi se la iniziassi adesso a 37 anni arriverei che ce n'avrei più di 40 per per avere uno sbocco professionale quindi non non so se mi convenga o meno se c'è qualche medico qualche medico all'ascolto se mi fa una delucidazione su questa cosa io sarei cioè io so abbastanza matta da da iniziare a 37 anni un nuovo corso di all'università e lo dico tranquillamente non c'ho nessun problema so se ste mattate le faccio le faccio ma proprio perché è una cosa che mi è rimasta come punto in sospeso e mi è dispiaciuto non non aver scelto di fare medicina per pigrizia lo ammetto non l'ho scelto per quello poi andando avanti con gli anni sono diventata mamma ho perso tempo e quindi non non l'ho più fatto non non ho più tentato ecco però adesso c'ho anche una stabilità mentale data dall'età data dalle esperienze della crescita per cui sinceramente sì lo inizierei un corso un corso all'università in medicina però ovviamente non so quanto sbocco professionale potrei avere e vabbè quindi se c'è qualche medico che sa che ha ascoltato il mio discorso e ci ha capito qualcosa perché mi rendo conto che è un po contorto però se c'è se c'è qualche medico che ha capito il mio discorso se mi delucidate un attimino mi dite quello che ne pensate così magari se è una cosa proprio fuori nel senso che mi dite no lascia perdere perché ci vuole troppo tempo oppure no guarda lascia perdere perché tanto a più dei 40 anni non ti assumeranno mai allora a posto sto bene come sto continuo a fare la mamma non vi preoccupate tanto abbiamo anche altri progetti a livello familiare con con samuele quindi non c'è nessun problema insomma con le mani in mano non ci rimango stavolta ci ho avuto il pil perché allora si vede che io amo fare la mamma mi piace proprio tanto il discorso è che adesso i figli cominciano a essere un po grandini aurora già esce da sola alessandro pure bell'autonomo è vero che adesso mi arriverà un altro un altro figlio però anche lui nel senso il tempo è veloce mi sono resa conto che crescono velocemente quindi quindi devo trovarmi qualcosa da fare anche perché so giovane insomma non è che so grande quindi niente visto che comunque l'idea di lavorare insieme anche con samuele ce l'abbiamo avuta ce l'abbiamo da un po stiamo facendo un po di progetti al riguardo cioè stiamo ragionando su dei progetti al riguardo però ecco insomma questo era un mio progetto personale che se è fattibile bene se no se no amen insomma non muore nessuno andiamo avanti lo stesso le occasioni se uno vuole cerca e c'ha volontà ce l'ha sempre io dico sempre questo e va bene fatemi finire solatte perché se no qui sto fino a mezzogiorno a parlare con voi a chiacchiera e me perdo quindi a dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' più particolare, quindi mi sa che oggi vado a cercare un po' un paio di cose, però ecco volevo farvi vedere un po' quello che ho io. Qui dentro ci sono un po' di zucche dell'anno scorso che avevo preso su Amazon con le foglie e le pignette, le ghiande eccetera. Poi ho questi fiori qui, questi fiori qua e i girasoli che io amo tantissimo in onore anche di mio padre, quindi li tengo e li devo mettere al posto di questi qua. E poi qui ci sono le federe che ho io, che sono quattro. E niente, oggi passo dal cinese e vedo un po' quello che ha, se no domani vado a Viterbo e vedo lì che cosa riesco a trovare. Momento compiti. Io sono contentissima, a differenza delle altre mamme, io sono contentissima perché i compiti li fanno da soli e io glieli controllo. Ovviamente Aurora è quella più lenta, quindi ogni tanto mi tocca. Aurora, muovete, Aurora a che punto sei, Aurora di qua, Aurora di là, però insomma li fa da sola anche in time in time. Alessandro pure li fa da solo, quindi io adoro quando fanno i compiti perché c'è un silenzio, non si sente niente, fanno i compiti, poi li controllo, almeno ci hanno da fare. Perché se no mi stanno sempre davanti War Tablet o a Nintendo è finita. E io invece mi riposo un attimo perché ho finito adesso di sistema la cucina, ho messo anche il runner autunnale. Ho finito adesso di sistema la cucina, adesso mi riposo quell'oretta per poi andare a karate, per poi portarli a karate. E basta, quindi buoni compiti a tutti. Siamo tornati da karate, sono le sei e mezza. Chiudi te che te sei la panza! Non me si chiude, non me si chiude! Non si chiude, è proprio così! Com'è karate, ti piace? Sai che devi imparare tutte le mosse con tutti i nomi? Sì, lo so, lo so, lo so. Meno male che gli piace! Vabbè, ora docce, dopodiché... Prima lei? Mi piace, poi Aurora deve finire matematica, poi cena e poi finalmente inizia il GF VIP che lo so, è una trashata assurda, però a me piace. Quindi non mi dite niente, lasciatemi perdere il mio trash e io so contenta così. Ok? Non so che non vi piace il fatto che mi piacere, cioè capisco che è una trashata assurda il GF, però... Cioè, ci sono talmente tante cose pesanti nel mondo che succedono che almeno una sera, una sera a settimana, vi prego, fatemi fare un po' di gossipaggio, un po' di cose che non servono a niente, per carità, perché lo so che non servono a niente, sono stupidaggi. Però almeno, cioè, io mi rilasso, cioè sto un po' così, ascolto tutte le cavolate che dicono e so, so felice così, quindi lasciatemi stare, non mi giudicate per questo, che già ho Samuele che mi giudica abbastanza per sta cosa. Oppure è perso il telefono. Vabbè, quello è un altro discorso, sì, che ha perso il telefono, vabbè, il babbo ha perso il telefono, non c'ho aperto. Sta diventando incubo sto telefono. È vero. Va bene, dai, dopo se vi faccio vedere. Per cena, penso di fare le fettine alla pizzaiola. Che so. Le fettine di carne con il pomodoro. Così facciamo poi la scarpetta col zughetto del pomodoro. E poi come verdura, non lo so, ci devo pensare. Che verdura facciamo, boh? Per me sono il broccolo. Eh? Per me sono il broccolo. Per te solo il broccolo esiste? Sì, perché a me mi piace solo il broccolo. Ho capito che ti piace solo il broccolo, ma mica si può mangiare sempre solo il broccolo. Faremo gli spinaci. Sì, spinaci. Sì, voglio vedere dopo quanti mi mangi. Ma le mangherò neanche un po'. Appunto. È appunto. G, 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 g. Ma se posso notare queste risposte? Vabbè. Io faccio gli spinaci per cena. Se te vanno bene, bene. Sennò ti mangi la fettina della pizzaiola. A me non mi piacciono gli spinaci. E allora ti mangi la fettina della pizzaiola. Chi è? E basta. Senza dolce. No. No. Ah. Ah, lo vuoi dolce, eh? Eh? Pansione che non sei altro. È diventato un trippone. È diventato un trippone. Non è vero. Perché mangia sempre solo soccolate e merendine. A tutte le ore. Non è vero. Come non è vero? Vorresti dire che non hai mangiato la merendina adesso? Prima. Prima di uscire da casa per andare a karate, alle 4 in quarto più o meno, ha mangiato un panino con la mortadella e la maionese. Sì. Perché dopo, se no, c'ha troppa fame e niente. È dopo. Poi, finito karate, quindi alle 6, siamo andati a fare la puntura al nonno. E dal nonno e dal nonno, che te sei mangiato? Niente. Bucciardo. Niente. Ha mangiato la merendina. Non è vero. E c'ha anche il coraggio, poi di rincenato. Gli è diventato uno stomaco grosso come un pallone. Penso. E c'ha sempre fame, vuole sempre mangiare le schifezze. E eccolo qua, il trippo. Il trippo. Ma ti chiama il trippo. No. Come il babbo è, il papo tu sarai il trippo. No. Sì. No. Vabbè. Non è giusto. Niente. Mi sa che lo chiudo qua, perché tanto Aurora sta a fare la doccia. Poi va lui, poi preparo ste fettine alla pizzaiola, poi ceniamo e poi GF. Quindi basta. Fine. Stop. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Alla fine, proprio perché io non mi ricordo mai quello che ho nel frigorifero, facciamo petto di pollo, spinaci per me e Samuele e broccoli per i bimbi. Così almeno siamo tutti contenti. Però questo vi fa capire che io praticamente non mi ricordo mai che cosa c'ho nel frigorifero.